Che cosa ne pensate di questo primo incontro? È un incontro molto proficuo perché permette ai comuni della città metropolitana di avere una boccata di ossigeno e poter programmare il futuro della propria città. E quindi sono investimenti di rilievo e di una certa importanza che ci aiutano a crescere la nostra città e quindi una città più a misura d'uomo. Ecco, voi siete venuti qui a parlare in generale, però avete già un'idea, visto che voi come comuni siete vicino al territorio e quindi conoscete, avete già presentato delle proposte, delle idee? Allora, le idee ce le abbiamo, per il momento non abbiamo presentato ancora nulla, però nelle nostre linee programmatiche, quindi di mandato, ci sono sicuramente delle idee da presentare. E in effetti non ci sono dei progetti definitivi veri e propri, ma incomincieremo a presentare dei progetti preliminari e poi sulla scosta di questi progetti preliminari attuoveremo le varie politiche. Ecco, un'ultima domanda. In questi quattro anni di inizio della città metropolitana c'è stata una scarsa partecipazione tra comuni e città metropolitana. Si sono visti pochi comuni. Pensate che possa iniziare un nuovo percorso? Sicuramente. Questi incontri sono molto proficui perché soltanto in maniera sinergica e trasversalmente possiamo ottenere dei risultati. Anzi, negli ultimi tempi la città metropolitana è molto vicina ai comuni e questa vicinanza ci aiuta. Ci aiuta sì a collaborare, a decidere e, ripeto, è una vera e propria boccata di ossigeno per poter programmare la nostra città.